La Nuova Zelanda subisce l'impatto del ciclone Cook, il più violento degli ultimi 50 anni, secondo i meteorologi. Cook in precedenza aveva già colpito la Nuova Caledonia, dove i danni sono ingenti e una persona è morta, ma poi si è rafforzato durante il percorso verso l'isola settentrionale dell'arcipelago neozelandese, cioè verso Oakland. Cook porta con 620 a 170 km all'ora e onde alte fino a 5 metri, e tutto questo in un contesto già fragilizzato dal passaggio della tempesta Debbie, che la settimana scorsa ha causato danni a case e strade, ma soprattutto ha impregnato i terreni e gonfiato i corsi d'acqua. Le strade sono in questi giorni prese dal salto dei vacanzieri, nonostante gli inviti a non spostarsi, diramati dalla protezione civile. Sono stati cancellati tutti i voli in partenza dagli scali di Rotorua, na Pierre Hamilton e Tauranga, a un centinaio di chilometri a sud-est di Oakland. La regione è praticamente al buio da ore, il principale asso e viario è stato tagliato dalla caduta di alberi.